Oggi il sesto incontro del Seminario Internazionale sul Romanzo di quest'anno, del 2021, che è dedicato alla storia e preistoria del romanzo. E quest'oggi abbiamo Miguel Gallego Roca, professore di letteratura presso l'Università dell'Armeria, Spagna. È un amico ormai piuttosto antico del nostro seminario, ha partecipato già diverse volte. In verità è la prima volta a distanza, perché di solito veniva in presenza, come molti altri amici del seminario. Oggi ci dedichiamo a un'altra, forse alla più gettonata, la più frequentata opera ritenuta alle origini del romanzo. In particolare, se parliamo del romanzo moderno, cioè il Don Quixote di Cervantes. Credo che Miguel Gallego Roca, che si è occupato sia della letteratura spagnola, sia della letteratura latinoamericana, sia della letteratura, diciamo comparata, avrà un suo punto di vista che naturalmente ci illustrerà, probabilmente attraverso, da quello che mi aveva accennato, attraverso anche la lettura e l'interpretazione di altri scrittori molto diversi tra di loro, perché dobbiamo cercare di capire fondamentalmente quali prospettive hanno anche gli scrittori, oltre che gli storici della letteratura o i critici letterari. Bene, il tempo che ha a disposizione il professor Miguel Gallego Roca sono circa 50 minuti, e poi se ci sono le domande, diritto, naturalmente, dopo l'intervento. Mi sembra che il professore condividerà con noi una serie di carte che ci ha portato, e do la parola a Miguel Gallego Roca. Grazie Massimo, grazie anche al SIR, perché veramente è diventato, questo seminario è diventato qualcosa veramente unica nella Università Europea, è un vero esercizio di letteratura comparata, e questo anno, così, è dedicato alla storia del romanzo come genere, e appunto Cervantes è uno dei capitoli più importanti, questo è senza dubbio. Mi ricordo, perché ho assistito alla prima conferenza di Thomas Pavel, questa problematica di che romanzo è il primo, che romanziere è il primo, questa cosa, quasi un debattito nazionalista, anche di orgoglio nazionale per essere il primo. Non so se Cervantes è il primo, ma comunque è uno che ha una rara invenzione, è uno che ha l'invento di questo genere moderno, praticamente lui ha fatto qualcosa di straordinario in quel senso. Io non sono un servantista, non sono un specialista in Cervantes, questa è una parola che nell'ambito accademico spagnolo è molto importante, un servantista, anche io parlo di Cervantes, qualche servantista può dire perché parlo io di Cervantes se non sono un servantista. Io sono invece uno che, come dice Goiti Solo, ha capito con un verbo, un neologismo che ha inventato Goiti Solo, che è servanteare, servanteare nel senso di leggere in un certo modo la letteratura, servanteare che è passeggiare tra testi, tra tradizioni, tra lingue, tra personaggi, e così è come io capisco questo libro, questo gran libro che è Cervantes. Per questo parlerò all'inizio un po' della poetica di Cervantes, della sua idea del romanzo, e dopo, alla fine, mi riferirò a tre lettori di Cervantes, tre diversi lettori di Cervantes, che è un professore, ma è anche un romanziere, che è Vladimir Nabokov, che ha una lettura molto particolare del romanzo del Quijote, che soprattutto è una lettura morale, una lettura morale del libro. Dopo parlerò di Juan Goiti Solo, che fa una lettura storica e formale, anche a vero con il passato di Spagna, con il passato, ma è una lettura, diciamo, determinata per un storico spagnolo che è Americo Castro, un passato che in Spagna ha da avere con tre religioni, l'ebraica, il judeo, il judeismo, l'islam e il cristianessimo. E dopo, alla fine, parlerò di un'ultima lettura del Quijote, che è quella del romanziere indo-inglese Salman Rushdie, che purtroppo è diventato un americano adesso, e che è anche una lettura storica e formale, ma che non è vincolata al passato, invece è vincolata a oggi, al tempo presente e anche all'avvenire. Va bene, vado a condividere qualcosa prima. Va bene, comincio prima di tutto con questo film di Terry Gilliam dal 2018, che è stato, come sapete, un film molto lavorato per Gilliam per 30 anni, praticamente ha cercato di fare questo film, ha avuto problemi di tutti i tipi, con i attori, con la climatologia in Spagna per girare questo film, e alla fine è uscito nel 2018, ma anche come Orson Welles, che ha cercato di fare un Don Quijote anni tra anni, dopo praticamente non ha finito, c'è stata una versione con il materiale di Orson Welles. È vero che il Quijote nella filmografia, nella storia del cinema, ha avuto tante tentative di rastrazione, anche quelle della Unione Sovietica, che è quello sicuramente più noto, fino a questi di Terry Gilliam. Ma mi interessa soprattutto qui che c'è il personaggio che porta il suo libro. Don Quijote porta il suo libro e lo mostra a Sancho. Va bene, non vado a raccontare l'argomento del film, ma questo è quello più interessante. Don Quijote è uno che, soprattutto nella seconda parte, che è consapevole che lui è un personaggio di un romanzo. E allora, anche nel film, questo è la storia di un vecchio attore che diventa pazzo e diventa praticamente uno che si crede Don Quijote. E allora, questa è l'immagine del personaggio che porta il suo libro. Perché questo ha molto da avere con il Quijote, perché il Quijote è tutto letteratura. Allora, diciamo che Cervantes fa un libro dove tutto è letterario, dove tutto c'è una dimensione letteraria. Dopo vendrà, possiamo parlare di questa frontiera tra la realità e la finzione, che è così, diciamo, un locus comune del commento di Cervantes e del Quijote. E dopo, anche voglio iniziare con un romanziere e critico, literario italiano contemporaneo, Giuseppe Montessano, che nel capitolo dedicato a Cervantes, nel suo libro Lettori selvaggi, nel 2016, immagina una situazione a Napoli, in un bar a destra, a Merghelina, dove lui prende qualche aperitivo e sente due personaggi accanto che parlano. Uno è Sancho e l'altro è Don Miguel de Cervantes, sembra. E dice così, dice questo Sancho, che comincia a parlare e poi leggere nel schermo, perché di scritti e di libri che spiegano il Don Quijote ce ne sono tanti. E sai qual è il bello, Miguel? Forse, Sancho, ma dimmelo tu. Sì, tu fai pure il buffone, maledetto. Il bello, caro mio, è che io ho ragioni, ma anche Sizzirro ha ragioni, eppure salmaso, e persino miserio. Il bello sai qual è? Il bello è che anche se tutti diciamo cose diverse e contrarie, tutti abbiamo ragione. Tutti. E allora cosa c'è di male in questo? Chiede Miguel de Cervantes. C'è di male, dice Sancho, che in questa parodia di Montesano è diventato un professore universitario, c'è di male che è una cosa immorale, Miguel. Non vuoi capire? Lo scrittore deve dire chiaro e tondo quello che pensa. Deve darci un senso. E' appunto questo che non fa Cervantes. Non c'è il senso, c'è il significato, ma non c'è il senso. E questo mi fa anche pensare a una entrevista, a un dialogo che hanno avuto Martin Amis e Salman Rushdie nel settembre 2020, una rivista degli Stati Uniti, Interview, a proposito dell'ultimo romanzo di Martin Amis, che è una sorta di storia personale, di autobiografia finta, intitolata Inside His Story, Inside His Story, all'interno della storia, Inside His Story and Novel. E a un certo punto Martin Amis comenta a Salman Rushdie, che ha avvertito un notabile cambiamento nel modo in cui i romanzi sono scritti e soprattutto in cosa aspetta un lettore di un romanzo. Dice Martin Amis, non puoi più aspettarti che il lettore congetture, che infiera, che indovine, no? De conseguenza, gli scrittori hanno smesso di usare significati impliciti, indizi, hanno smesso di giocare con il lettore. Ora, in questo, oggi per oggi, devi testimoniare. Allora, e questo è il problema, questo è il problema, deve, il romanzo deve fare una, deve essere un testimonio di qualche cosa, di qualche ideologia, di qualche genero, di qualche situazione, invece di scrivere, si deve affrontare il romanzo come se fosse un tribunale, il contrario di quello che è Cervantes, il contrario assolutamente di quello che è Cervantes. Allora, parliamo del Quijote come il romanzo moderno, no? Possiamo dire che Cervantes inaugura un'arte che non nomina, al quale non le dà un nome preciso, no? inventa il romanzo, ma per quanto ne sappiamo, lui non è sicuro di cosa sia il romanzo. Sa che questo libro che lui ha scritto è qualcosa di nuovo nella storia dei generi, è qualcosa di straordinaria, è la rara invenzione di cui parla, ma tra la prima parte e la seconda riveliamo che Cervantes nella prima parte inizia modestamente e conclude con una certa vanità di quello che ha scritto, no? Questo anche mi fa pensare anche al commento che fa Thomas Mann nel suo bellissimo libro sul Quijote, in questo c'è una una travessia in barca tra Europa e gli Stati Uniti, lui legge il Quijote e lui dice così, no? Che c'è una modestia, c'è qualcosa umile nell'inizio del libro invece lo compara con quelli che hanno questa pretensione di scrivere qualcosa di grande al quale Thomas Mann ha questa attitudine che Thomas Mann chiama l'Aquila Malata, l'Aquila Malata del romanticismo della opera del capolavoro, no? Allora andiamo un po' avanti, vediamo prima di tutto le due prima edizione del Quijote, la prima parte 1605 che come vediamo si intitola non c'è la parola romanzo non c'è la parola romanzo e la historia del ingenioso Hidalgo Don Quijote della Mancia del ingenioso del fantástico Hidalgo c'è la parola Hidalgo che è una parola che ha da avere con la nobilità spagnola figlio di qualcosa allora c'è una certa nobilità nel personaggio ma dopo c'è già il cavaliere la seconda parte è la seconda parte del ingenioso cavallero che è diventato un cavallero nel diciamo nel specchio di antichi cavalieri di libri di cavalleria allora questa è una distinzione che fa pensare questo questo la data è erronea qui 1615 non so perché è diventato questo un errore assolutamente scusi va bene nel prologo alla prima parte nel prologo a questa prima parte del Quijote la parola romanzo per riferirsi a quella opera non appare da nessuna parte Cervantes chiama la sua invenzione la storia di Don Quijote e beh conosciamogli al titolo l'ingenioso Hidalgo Don Quijote della Mancia come se fosse una biografia una storia vera l'assenza di un nome generico può essere dovuta a due cause la prima la veridicità prevista ma chiaramente finza del caso di Don Quijote che si basa sulla figura di Ciri Amete Benengeli autore di una cronaca arabe che Cervantes aiutato da un morisco traduce in spagnolo alla fine del capitolo 8 della prima parte l'azione di il romanzo è sospessa come leggiamo qui c'è questa primera parte capitolo 8 ho usato la traduzione di Vittorio Bodini che è una classica del del Quijote ma oggi ci sono altre la ultima credo che è dal centenario della commemorazione del 2015 credo è una traduzione collettiva sotto la cura di Patrizia Botta una traduzione di diversi traduttori di Cervantes ma va bene quella che ho avuto a mano è quella di Vittorio Bodini allora in questa situazione in questo capitolo 8 della parte prima c'è questa situazione Don Quijote contro il Biscaglio in difenza con le spada in alto ben risoluto ad aprirlo in due questa è la situazione e qui l'argomento è sospesso cosa succede allora c'è c'è questa questione dice Cervantes ma il guaio di tutto è che proprio qui a questo punto è attimo l'autore della presente storia lascia sospesso il racconto di quella battaglia giustificandosi col dire che oltre le dia riferite altro non trovò scritto sull'impresa di Don Quixote è vero altresì che il secondo autore della presente opera non vuole credere che una così strana vicenda potesse essere stata abbandonata alle leggi di lobbio e che i dotti della mancia avessero avuto così poca curiosità da non osservare nei loro archivi e cassetti delle carte che parlassero di questo famoso cavaliere con questa teoria non dispensore di trovare la fine di questa piacevole storia e con l'aiuto del cielo infatti la trovò nel modo che si racconta nella seconda parte va bene questa seconda parte non è la seconda parte del 1615 è la seconda parte in cui è diviso la prima parte del Quixote ma qui c'è un laberinto di autori di specchi di diversi autori perché c'è un autore che è quello arabo che ha scritto la storia c'è un altro che commenta la storia un compilatore e c'è anche questi dotti della mancia che devono avere scritti sul Don Quixote pertanto Cervantes costruisce tutto un laberinto autoriale su il manuscrito che racconta la storia del Quixote questo è già qualcosa che non abbiamo mai letto in altri autori di novelle di romanzi prima da Cervantes allora questo è questa situazione come dico di laberinto autoriale e anche se può dire che il personaggio il personaggio il proprio Cervantes come abbiamo visto nel fotogramma del film di Terry Gilliam inventa il suo autore perché Don Quixote parla spesso del saggio che scriverà le sue azioni parla di quello che nel futuro che nell'avvenire scriverà di quello che lui faccia allora c'è un'altra situazione che utilizza Cervantes che Cervantes mette in in argomento che è quello del manoscritto trovato allora come vede l'autore dice che qualcosa non va avanti perché mancano altre testimoni altri manoscritti per raccontare ancora la storia di Don Quixote lui cerca di trovare queste queste manoscritti allora dove lo trova in un mercato lo trova in un mercato e lo vediamo nel capitolo 9 della prima parte dice così e il rivenimento occorse in questo modo io mi trovavo un giorno nell'Alcanà di Toledo l'Alcanà di Toledo è un mercato quando arrivò un ragazzetto a vendere scartafacci e carte vecchie a un mercante di sete e poi che ho e poi e poi che io ho la mania di leggere tutto persino i pezzettini di carta trovati in terra per via questo è questo è servante sono chi legge anche i pezzettini di carta trovati per via quei che legge anche non so il prospetto di una medicina quello che legge anche tutto tutto quello che è scritto e spinto di questa mia naturale inclinazione presi uno dei cartabelli che il ragazzino vendeva e lo vidi scritto in caratteri che riconobbi per arabi e dato che li riconoscevo sì ma non riuscivo a capirci mi guardai in giro per vedere se compariva qualche moro qui Bodini parla di moro in spagnolo è morisco morisco è quello che appartenendo all'islam il moro ma diventa cristiano cristianizzato va bene allora trova qualcuno che capisce l'arabo e che può tradurle queste scartafagci queste carte vecchie e questo moro dopo leggo un poco più avanti dopo averne letto un poco cominciò a ridere lì domandei perché rideva allora questo morisco gli risponde una cosa che c'era scritta immagine come notazione ancora più annotazione più più scritti ancora più scritti che scrivono su un cartaposo su un manoscritto lì chiesi che me la dicese e lui senza smettere di ridere dice qui in margine c'è scritto questa dulcinea del toboso tante volte menzionata in questa storia dicono che non ci fosse in tutta la mancia una donna che avesse la mano come la sua per salare i porci e allora Cervantes questo che è nel canale di Toledo allora capisce che quello che ha trovato è quel manoscritto che cercava allora questo c'è una una questione fondamentale tutto in Cervantes tutto in Don Quixote è scritto mi ricordo che se possiamo parlare di Cameron che parlava anche Alfano nel suo intervento e che c'è una oralità c'è una oralità qui no qui c'è tutto è una questione di scrittura tutto c'è una questione di di manoscritti di autori che commentano un altro anche c'è una certa oralità nel racconto intercalato come vedremo no ma non è la non è fondamentale questa oralità l'importanza per Cervantes è questa situazione del manoscritto del del continuo aggiungere trovare documenti per raccontare la storia di Don Quixote allora Cervantes sta scrivendo nel canale di un genere senza poetica consolidata neanche aveva questo questo il romanzo come romanzo antico romanzo romanzo greco romanzo bizantino il romanzo tipo Eliodoro neanche aveva una considerazione della poetica classica lo sappiamo Aristotele praticamente menziona due righe su questo tipo di 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 literatura no circostanza questa questa di non scrivere in un genere con una poetica consolidata che spiegarebbe le provocazioni a studiosi e grammatici contenuto contenute nel nel prologo è tutta una una parodia di 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 questo prologo è tutta una parodia di 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 accademici che parlano della dei generi literari e così no la unica cosa di cui Cervantes è sicuro la unica cosa di quella che è sicuro è che parodia un genero e sviluppa un altro genero no due generi notti no da un lato parodia i libri i libri di cavalleria parodia questo 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 tipo di literatura e da un altro lato no e sviluppa l'arte della novella italiana questo sono le due cose di cui Cervantes è veramente consapevole con questa doppia procedura da vita a una nuova forma di prosa la finta storia della vita esterna interiore di un uomo che vuole vivere una storia d'amore e che vuole anche vivere un'avventura in un passato già inesistente sia la invenzione artistica che il personaggio inventato sono sulla strada della libertà individuale e questa libertà individuale chiaramente rinascimentale che possiamo anche vedere in Spagna soprattutto nella picaresca nella tradizione della picaresca e che anche nel caso di Cervantes ha da avere con uno che è nelle margini della diciamo della ortodoxia sappiamo che Cervantes uno dei suoi sogni nell'età adulta era viaggiare America per fare l'America per diventare una persona diciamo dei soldi avere questo che in Spagna è fare l'America andare per diventare ricco per fare fortuna Cervantes non può andare a America perché non può giustificare che è un cristiano viejo cosa vuol dire che è un cristiano in tutte le sue ancestri c'è un dubbio della sua sangue iudaica della sua sangue anche morisca e questo è una cosa importante che solo dopo parleremo in questo senso di Cervantes come autore è uno che non è nell'ortodoxia cristiana possiamo dire e questo dico il problema della libertà individuale anche con questo contesto di la picaresca spagnola e che come Kundera Milan Kundera chiama Cervantes lo fa il personaggio del romanzo moderno come un ego sperimentale allora Don Quijote è il primo ego sperimentale in quel senso è un ego sperimentale per parlare della libertà individuale anche in questo contesto della Spagna del diciamo il rimascimentale e l'inizio del barocco ma qual è l'esperimento di Don Quijote il personaggio Cervantino si trova di fronte a un'equazione realtà finzione e la questione la risposta di di Cervantes è non risolvere questo questa equazione lascia irrisolto questo questo questa frontiera tra la realtà e la finzione questa non è una vittoria Quijote non è una vittoria della finzione sulla realtà è una vittoria della realtà e della finzione allo stesso tempo e concorso estetico tra realtà e finzione che Cervantes è uno dei primi a non risolvere con questi tavoli con quel gioco senza vincitore nasce quello che chiamiamo romanzo moderno questo sì possiamo dire che Cervantes è il primo romanzo moderno in quel senso di non risolvere questa questione tra la realtà e la finzione un altro argomento che c'entra nel definire la poetica romanzesca di Cervantes è la questione paradossale che chi parodia generi esistenti e costruisce una nuova forma della prosa aspira tutta tutta la sua vita ad essere riconosciuto per opere che si adattano perfettamente agli generi riconosciuti allora forse è necessario occuparsi della cronologia a Cervantina per comprendere meglio la portata della sua invenzione la carriera di Cervantes come prosista lasciando la parte teatro e poesia inizia con un romanzo pastorale la Galatea 1595 prosegue con la prima parte di Don Quijote 1605 segue a questo la edizione dei suoi romanzi esemplari novelle italiane novelle esemplare nel modello della novella italiana che pubblica nel 1613 che adesso dopo vedremo che questo prima va un po' avanti e dopo andremo che no aspettavo un attimo perché è questo nel 1613 la novella di la novella che è pubblicata tra la prima parte del Quijote e la seconda parte del Quijote dopo 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 questo la maggior parte di quelli novella sono composti prima e durante la scrittura del Quijote due anni dopo vedremo la seconda luce la seconda parte del Quijote e la sua opera si chiude con un romanzo al estilo greco al estilo diciamo di Leodoro Persiles e Seghismunda che è l'ultimo romanzo anche pubblicato post-mortem 1617 il Persiles che è un romanzo bizantino con naufragi rapimenti anagnorisis tutto quello che c'è così l'orizzonte di Cervantes cioè il sistema literario della narrativa in prosa della seconda metà del XVI secolo era composto dai seguenti sottogenerini sottogenerini romanzo greco bizantino tipo la storia etiope di Leodoro il romanzo pastorale la Galatea che abbiamo detto la Diana del portugueso Montemagor come esempi libri di cavalleria e quelli più importanti sono la Maris Tirando Blanc libri moreschi o romanzi storici che raccontano eventi di confini con mori e cristiani e la benzerraja il romanzo della benzerraja il romanzo sentimentale e amatoriale la novella italiana Boccaccio soprattutto e tutte le novelieri italiane satira e dialoghi lusianeschi aneddoti folcloristiche la comedia umanistica in prosa soprattutto la Celestina e soprattutto di tutte queste che ho detto la picaresca Lazzarillo Guzman Dalfarace eccetera di tutti Cervantes è un buon conoscitore e tutti sono presenti in un modo o un altro come parodia come dialogo come storia intercalata nella composizione di Don Quixote Cervantes lo capisce quando nella prefazione al lettore dei romanzi esemplari afferma di poter leggere tutti insieme i ciascuni di essi queste novelle Cervantes vero specialista dell'arte della prosa nelle sue varie forme grande maestro del romanzo breve della novella italiana diventa nella novelizzazione degli episodi del Quixote fondatore di un genere nuovo che definisce la modernità europea probabilmente quella radice semitica orientale condivisa con i novellieri italiani che sono il modello diretto di Cervantes i novellieri italiani che sono tradutti in spagnolo diverse volte in quella epoca sono tradutti massivamente Boccaccio Donni Massuccio Vandello Ghiraldi tutti questi sono tradutti tante volte nella Spagna di quel tempo là in questo contesto non c'è dubbio che il romanzo il romanzo per Cervantes fosse quello di raccontare racconti brevi secondo precettisti della epoca gestiti da Cervantes come Gian Bastista Giraldi il discorso intorno al comporre dei romanzi del 1554 o altri i Colomini o anche l'espagnolo Lopez Pinziano tutti questi che parlano della novella italiana ma soprattutto Cervantes si vanta ha l'orgoglio di non tradurre ma non rescrivere come fecero i compilatori ma di comporre romanzi originali di nuova invenzione ciò è affermato nel prologo dei romanzi esemplari che qui qui lo leggiamo nel prologo dei romanzi nelle novelle esemplari la traduzione di Paolo Gorla io sono io sono il primo che ha novelato in lingua castigliana dice Cervantes e le molte novelle che sono state stampate in questa lingua sono tutte tradotte da lingua extrañere mentre queste sono propria mie non imitate ne rubate dopo le novelas se la vita non me abandona ti offro los trabajos de Persiles che è un romanzo incompiuto sconosciuto di Cervantes non si sa niente dopo parlaré anche un po' di puesto perdon los trabajos de Persiles si si conosce Persiles quello della Semana del Jardin che dice dopo ma prima vedrà in breve e ampliamente le imprese di Don Quixote le trovate di Sancho Panza e dopo ancora la Semana del Jardin questa la Semana del Jardin è di quello che non si conosce niente soltanto questo riferimento nel prologo dei novelli dei novelli esemplari allora Cervantes ha l'orgoglio alla vanità di essere il primo che novella in spagnolo non traduce non riscrive le novelle italiane nello stesso Quixote tuttavia ci sono esempi dell'ambiguità che potrebbe portare il termine romanzo verso la fine della prima parte il capitolo 47 quando Quixote è sconfitto e ingabbia ritorna contro la sua volontà il ventero dà a un sacerdote alcuni manuscriti che durante la permanenza in la venta avevano suscitato l'interesse di questo ultimo tra cui c'è il romanzo questo romanzo questa novella intercalata che è il curioso impertinente e allora c'è qui che vediamo il capitolo 47 della prima parte del Quixote e qui il traduttore Vittorio Odini utilizza la parola racconto invece in spagnolo la parola è la parola italiana spagnolizzata novella perché dice il curato lo ringrazio il ventero le dà a manoscritti al curato che è interessato in queste novelle e dice il curato lo ringrazio e spiegateli subito vide che in capo al manoscritto diceva racconto del rinconetico ortaviglio vediamo questo questo problema il traduttore Vittorio Odini non ha preferito utilizzare la parola racconto dopo in ulteriore traduzione del Quijote alcuni traduttori utilizzano la parola novella ma questa è la novela del rinconetico ortaviglio che è una una di novella ejemplare di Cervantes una di quelle che ha pubblicato nel 1613 che dopo pubblicerà diciamo nel 1613 questa è l'ambiguità della parola qui troviamo l'ambiguità della parola novella per parlare di quello che in italiano oggi è romanzo e che in spagnolo è novella questa sarebbe un testimone una testimonianza che anche avevamo questa testimonianza del problema di tradurre questo in italiano va bene ci sono anche alcune ragioni filologiche per pensare che il Quijote sia stato concepito come un romanzo breve come una novella italiana nelle prime nove capitoli e che dopo è diventato qualcosa più lunga più importante più più straordinaria in quel senso della rara invenzione succede accade qualcosa di non planificato in questo senso la rara invenzione comincia a diventare qualcosa più grande più importante più moderna diciamo chiaramente va bene vado più o meno bene ma voglio credo che con questo qui c'è un'altra con questo credo che posso terminare con questa poetica del romanzo nella seconda parte sappiamo che la prima parte del Quixote nella prima parte del Quixote Fervantes utilizza il racconto o la novella intercalata diverse novelle intercalate ma la seconda parte questo sparisce la seconda parte non ci sono più novelle intercalate non ci sono più racconti intercalati e lo spiega lo spiega nel capitolo 44 della seconda parte dice e perciò in questa seconda parte non vuole inserire romanzi racconti dice dice il traduttore novelle no? sciolti né attaccaticci ma soltanto ma solo alcuni episodi che sembravano nati dai messi d'eventi che la verità offre e anche questi in modo limitato e con soli le parole che bastano per dichiarare per dichiarare e anche questi vivamente sono quelle parole che basta e del momento che si contiene e si chiude nelle strette confine della narrazione pur avendo i mezzi la capacità e l'ingegno per parlare di tutto quanto l'universo chiede che non li sottovaluti la sua fatica e lo si lodi non per quello che scrive ma perciò che non scrive perciò che non scrive allora c'è questo orgullo di poter parlare di tutto poter parlare di essere comico tragico drammatico di essere parodico allora parlare di tutto e che diciamo che si deve admirare quello che non scrive soprattutto quello che poteva avere scritto ma non non c'è scritto ma la situazione diciamo formale è questo di utilizzare gli episodi di Cervante di Don Quijote e Sancho Panza come se fossero novelle come se fossero racconti questa è la seconda parte questa è la poetica della seconda parte costruire gli episodi come novelle va bene allora credo che posso poteva parlare di più ma non voglio soltanto diciamo un'altra cosa per sì questa idea anche mi sembra interessante metterla in fuoco la scrittura desattata la oratio soluta che anche Cervantes con quale Cervantes definisce la sua maniera di scrivere dice nel capitolo 47 della prima parte perché il tipo stesso così libero di questa scrittura traduttore italiano dice questa scrittura libera in spagnolo quello che Cervantes scrive la scrittura desattata questa scrittura sciolta la oratio soluta senza regole metriche soprattutto al di là di quello che diceva Cicerone Quintiliano permette all'autore di dimostrarvi sì epico lirico tragico comico con tutti quei preghi che racchiudono in sé le dolcissime esquisite discipline della poesia e dell'oratoria poiché infatti la epica può benissimo scriversi così in prosa che in versi questa idea dell'oratio assoluta della scrittura vessatava che si può parlare di qualsiasi cosa va bene allora credo che posso cominciare a parlare delle tre diciamo di questi tre lettori che aveva detto all'inizio detta questa poetica dedicherò pochi commenti alla lettura di Nabokov va bene diciamo che diciamo prendere in conto come legge Nabokov il Chijote Nabokov è un professore lo legge in aula lo legge in una lezione possiamo trovare una maniera di contestualizzare questo avvicinamento alla lettura di un scrittore possiamo farlo attraverso Riccardo Piglia l'argentino le letture che fanno gli scrittori di altre opere o anche possiamo farlo anche con Enzio Raimondi in quel libro suo Un'etica del lettore che si chiede quando come in che situazione leggi un scrittore un romanzo Nabokov lo legge come professore della università che è stato invitato alla università di Harvard nell'anno académico 1951 1952 a dare un curso sul romanzo il titolare della cattedra in quel momento che è Harry Levin noto comparatista che è quello che Nabokov deve sostituire in quel corso ha indicato a Nabokov l'opportunità di iniziare il corso con Don Chijote un punto di partenza logico per lo studio della successiva evoluzione del genere che dopo farà Nabokov con Dickens Gogol Flaubert Tolstoi autori già studiati da Nabokov nei corsi della università di Cornell ma dove non appare Cervantes in quei corsi sul romanzo moderno della università di Cornell non appare mai Cervantes nei corsi di Nabokov Nabokov scrive dice qui abbiamo la copertina di queste letture che c'è un un prologo di Guy Davenport anche di un comparatista un noto comparatista americano e allora Davenport ricorda in questo prologo che Nabokov scrive a un suo amico anche romanziere di origine ruso Herbert Gold le dice così ho fatto pezzi il Don Quixote ho fatto pezzi il Don Quixote quel vecchio libro crudele davanti a 600 studenti in il Memorial Hall dell'università di Harvard per l'orrore e l'imbarazzo di alcuni miei colleghi più conservatori allora che cosa dice Nabokov Nabokov dice prima di tutto che Cervantes non conosce la Spagna secondo avverte una crudeltà e una 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 mancanza di umorismo nel libro che le sembra a Nabokov diciamo spaventosa e inavvertita per i commentatori di Cervantes attraverso i secoli dice per esempio che come è possibile un romanzo di avventure dove non si può neanche attraversare un fiume perché non si attraversa un fiume dopo adverte qualche elementi crustiani nel Sancio nella maniera in che Sancio ricorda al suo passato ma soprattutto è quello di un libro di una crudeltà spaventosa la tesi di Nabokov è la seguente le due parti di Don Quijote formano una vera e propria enciclopedia della crudeltà questo punto di vista è quello del libro più barbaro così lo denomina e è gradevole mai scritto questo mi sembra anche interessante metterlo accanto della lettura di Borges del Quijote le due Nabokov e Borges diciamo che abobinano del Quijote non c'è qualcosa nella maniera di Cervantes che neanche questi due diciamo guru del postmodernismo Nabokov e Borges rifiutano assolutamente e noto quella butà di Borges che diceva che lui aveva letto il Quijote nella versione inglese che mai lo aveva letto in spagnolo questo è veramente diciamo clave per capire questo allora per Nabokov la prima parte del Quijote è di una crudeltà fisica assoluta sono tutte le botti tutti i momenti in che il Quijote viene picchiato il momento in che Sancho è maltrattato per un altro il momento in che sono la prima parte della crudeltà fisica e la seconda parte quel momento in che Don Quijote e Sancho vanno al palazzo dei duchi di Barcelona queste che giocano con loro che giocano con loro con la pazzia di Don Quijote e anche la pazzia della insula che vuole ottenere Sancho allora la seconda parte seria la parte della crudeltà mentale una crudeltà psicologica allora Nabokov non capisce l'humorismo di Don Quijote non capisce per niente questa cosa di che Cervantes fa un gioco con la realtà è vero che se questa situazione di crudeltà fossero vere possiamo leggere il Quijote come lo leggeva un amuno come una tragedia come una come una questione ma no quello che fa Cervantes è giocare con la realtà e allora praticamente qualcuno ha parlato anche Francisco Rico diciamo il grande editore di Cervantes parla di qualche situazione in Don Quijote come le slapstick come la situazione di Chaplin con questi personaggi che hanno un momento troppo violento ma non accade niente alla fine è vero che Don Quijote si preoccupa per la sua integrità fisica quando ha questi momenti ma sopravvive a tutti questo e c'è un gioco tra la realtà e quello che dice Francisco Rico è una farsa un patto è la farsa un patto nella comicità va bene questa sarebbe la lettura che fa chi fa Navocco vado finendo perché così la seconda lettura che voleva ricordare è quella di vado avanti con qualche più riferimento è quella di Guetisolo quella di Guetisolo quella di Guetisolo soprattutto è interpretando Cervantes come legge Guetisolo a Cervantes lo legge dal nord di Africa lo legge da Tangier da Marrakesh lo legge da dove lui ha scelto vivere nella frontiera africana e la Spagna e per lui c'è una parola o una situazione fondamentale che è questa che è l'autore del Quijote l'autore nascosto questo autore Sidi Amete Benengeli è un autore arabo e possiamo leggerlo così se questa nel capitolo nove della prima parte se a questa è una obiezione può farsi per la sua verità per la verità del romanzo non potrà essere altra che di aver avuto per autore un arabo perché si sa che i propri degli uomini di tale nazione essere bugliardi questa è la idea spagnola di un arabo un bugliardo ma essendo nostri nemici c'è da supporre che in questo caso siano stati più parchi che esagerati e dopo anche in quello capitolo dice già in questa qui posso dire che si vi troverà tutto ciò che si può pretendere della più pacevola più piacevole se qualcosa di buono vi dovesse mancare per me la colpa è tutta di quel cane del suo autore ma vediamo che c'è qui il cane è una maniera in spagnolo di riferimento per i mori per i arabi il cane è l'arabo qualcuno che conosce un po' la Spagna sa che c'è una frontiera tra Castiglia e l'Andalus e quel posto là si chiama Despegnaperros si chiama diciamo Buttacani Buttacani in quella montagna quello che buttavano era i cani gli arabi va bene questa è la situazione della quale parte la lettura di Goiti Solo e soprattutto la lettura di Goiti Solo da avere con questa parola il mudéjarismo il mudéjarismo Cervantes sarebbe un mudéjar come lo è lo stesso Goiti Solo lo stesso Goiti Solo vuole essere e come erano mudéjares questi questi architetti di chi essendo arabi rimanevano nei territori cristiani dopo la reconquista dopo della della riconquista e allora in quel in quel territorio si sviluppa un stile che questo che vedi così in Aragone soprattutto quello che vediamo qui in una chiesa di Teruel in Aragone dove del 1316 questa iglesia di San Martino dove si mescola dove c'è una mistura tra elementi arabi elementi islamici e elementi cristiani è una chiesa cristiana construita come se fosse una mezquita come se fosse un edificio islamico e allora è così che lui interpreta la scrittura di Cervantes come uno che è al di là dell'ortodoxia come ho detto prima e anche lui scrive un romanzo titolato come quel libro è scomparso di Cervantes le settimane del giardino la settimana del giardino nel quale c'è un questionamento dell'autore come si vede qui nella traduzione italiana c'è un circolo di lettori è un circolo di lettori che scrive novelle che scrive novelle nel senso del Decameron nel senso del Boccaccio nel senso del Boccaccio ma senza autore senza un autore riconosciuto questa sarebbe un'altra la seconda lettura che voleva mettere in fuoco oggi ma la ultima con questo finisco perché già credo che è abbastanza allora è Salman Rushdie questo ultimo romanzo di Salman Rushdie che si intitola Quixote che è stato anche tradotto in italiano così finisce un po' va bene della Sons of Midnight 1981 il più noto romanzo di Salman Rushdie il lavoro di Rushdie è stato classificato nella tradizione del surrealismo o del realismo magico latinoamericano in una delle sue raccolte di saggi Imaginary Homelands 1991 riconosce il legame che l'ha unito a altri romanzieri che hanno affrontato l'apprendimento del mondo moderno e anche rispettando o tenendo in mente le tradizioni magiche sacre delle sue genealogie e parla di Machado d'Assis di García Márquez e anche di Beshbir Singer il romanziere polacco ebreo alla fine americano va bene questa è diciamo la situazione e anche chiaramente in Rushdie è importante le mille e una notte questa maniera in cui queste parole cominciano tutte le novelle le milioni a notte Cam Macam Fikadim Azaman che la traduzione di questo è può darsi forse sì o forse no vivevano nei antichi tempi e i nostri c'era once upon a time c'era una volta come in italiano c'era una volta c'era una volta ma qui in la tradizione delle mille e una notte forse sì o forse no vivevano nei tempi antichi va bene questo è questo è quello che fa che fa Rushdie e chi è questo Don Quixote di Rushdie no? Don Quixote di Rushdie è un dirigente commerciale americano di origine hindù abituato a viaggiare in tutti gli Stati Uniti è rassegnato a dormire nei motel con l'unica compagnia di programma degli infiniti canali televisivi allora i suoi romanzi di cavalleria sono serie di zombie e vampiri concorsi spettacoli matutini talk show late night show spettacoli di gossip pubblicità e social media allora questo Quixote si innamora un vero amorfu di una giovane star dello schermo che presenta un talk show quella Dulcinea si chiama Salma R allora qui con questa semplice nome di Salma R comincia questo laberinto di autori che anche vediamo nel Cervantes questo laberinto di autori personaggi personaggi che si sanno immaginari eccetera e dopo c'è anche un Sancho un Sancho che ha una solida consapevolezza della sua irrealità è un figlio che appare nella macchina dove c'è questo Quixote attraversando gli Stati Uniti c'è all'improvviso appare un Sancho un suo figlio nella sedia accanto al conduttore e questo Sancho un giovane ha una chiara consapevolezza della sua irrealità allora dove siamo? siamo negli Stati Uniti di Trump e continuamente si dice è l'era in cui tutto può accadere no? l'era che tutto può accadere comunque potrebbe accadere tutto una donna potrebbe innamorarsi di un maglialino di latte o un uomo può vivere con un guffo un'intera nazione potrebbe essere gettata da una scoliera come se fosse una una orda di lemmings gli uomini che interpretavano presidenti in televisione potevano raggiungere veri presidenti nello stesso momento dice Rajdi in cui la cultura dimentica dimentica la storia la cultura cominciava ad essere qualcosa senza memoria lobotomizzata priva di significato nella storia il passato era per i morti no? questo è questa atmosfera tra diciamo dove non c'è una coscienza storica dove tutto è una diciamo che le due le due le due riferimenti continui di Rajdi è la entropia e la paranoia la paranoia nel senso anche di Pynchon di Thomas Pynchon no? la paranoia nel senso che tutto ha un senso come diceva Montesano all'inizio no? o come diceva Sancho il Sancho di Montesano all'inizio tutto ha un senso no? allora quella seria la paranoia tutto deve avere un senso tutto deve avere una spiegazione tutto deve avere una una dichiarazione allora questo mondo della paranoia è il mondo della religione ortodoxia del del totalitarismo politico anche e c'è l'entropia c'è quella entropia quella libertà democratica che parlava Pynchon quando parlava dell'entropia nella quale la vita non ha senso niente ha senso è il mondo della libertà democratica no? va bene un mondo con questo finisco no? a un certo punto si parla si chiede Sancho no? che è il figlio diciamo inventato il figlio immaginario no? che è la normalità che è la realtà no? e allora lo definisce così no? un mondo di spazzatura e anche di cose magnifiche allora spazzatura e cose meravigliose no? ed entrambi convivono allo stesso livello della realtà entrambi emettono la stessa area d'autorità la spazzatura e la cosa magnifica hanno la stessa autorità e allora dice come dovremmo essere distinti per un giovane si pregunta Sancho che è il giovane come posso distinguere la spazzatura delle cose magnifiche perché tutto hanno la stessa autorità no? come dovremmo essere distinti da un giovane un momento in cui la verità non ha più no scuse no? un momento in cui la verità non ha più prestigio e dipende del canale di televisione che vedi no? Allora la verità è questo momento che passiamo sempre della posverità la posverità la verità non ha prestigio la verità non ha lo sappiamo in questo momento della pandemia abbiamo diciamo che abbiamo attraversato una frontiera cervantesca in quel senso della dell'entropia e anche della della paranoia no? Va bene ringrazio e finisco grazie grazie miguel se vuoi puoi togliere la grazie grazie del del tuo intervento che come avete sentito diviso in due parti la prima parte relativa alla poetica di Cervantes tratta proprio dal romanzo quindi qui si tratta di un autore che parla del romanzo all'interno del romanzo e poi anche la seconda parte necessariamente rapida dove Miguel Roca ha messo in luce tre interpretazioni del Don Quixote fatti da tre scrittori tre scrittori che sono naturalmente anche tre saggisti come spesso accade agli scrittori in prose romanzieri Nabokov Goetissolo e Rushdie quindi che poi ci hanno aperto anche al mondo della nostra contemporaneità come sempre sanno fare gli scrittori in particolare con l'ultimo romanzo di Rushdie che è tradotto in Italia ma se devo dire la verità è passato quasi del tutto inosservato cosa che ci dice molto sullo stato attuale della ricezione italiana del romanzo ma anche sullo stato attuale della ricezione appunto estetica perché se neppure più i romanzi di Rushdie riescono ad attrarre il pubblico vuol dire che il pubblico è attratto da tutte altre cose che mi sembra che Gagliago Roga abbia messo in luce attraverso proprio Rushdie volevo sapere allora se ci sono delle domande Luca credo che ha aperto i microfoni per coloro che vogliono forre qualche domanda se ci sono naturalmente delle domande specifiche sul Don Quixote o sugli autori che Gagliago Roca ha preso come esempio di lettori del Don Quixote sì questo è un topo è talmente un topos che ormai per me no ma si vorrebbe sempre uno un professionale di la domanda però purtroppo adesso non so a distanza però io e mio amico Miguel abbiamo riflettuto spesso su questo tipo di situazione e di solito c'è un messaggio ? Sì ci sono io ah sì c'è una domanda chi deve fare la domanda la faccia perché ha il microfono più che una domanda è un'osservazione a proposito appunto Miguel ha messo in luce il rapporto tra il romanzo e la lettura che è soprattutto evidente nel Don Quixote e ha ricordato che all'inizio il narratore racconta di essere stato attirato da questi pezzetti di carta ha citato poi anche questo saggio di Riccardo Piglia l'ultimo lettore che appunto mi trovavo qui qui a casa e quindi ho trovato proprio quel passo e Riccardo Piglia dice che in questo in questa figura del lettore evocato da Cervantes che poi lui stesso che legge anche i fogli stracciati che ci sono in strada Riccardo Piglia nota la figura nota la scorge la condizione materiale cito del lettore moderno cioè il lettore moderno che vive in un mondo di segni è circondato da parole stampate nel tumulto della città si sofferma raccogliere carte gettate per strada vuole leggerle quindi il lettore moderno è quello che vive in un mondo di segni oggi è ancora così ma questa condizione è esasperata perché oggi i segni più che circondati siamo operati perché con la tecnologia con l'avvento dei social noi siamo continuamente a contatto con parole che si confondono anche con le immagini e al criterio del caso si è forse sostituito il criterio dell'algoritmo nel senso che molte volte non siamo neanche noi a scegliere o a scovare quasi per una specie di gioco delle coincidenze i segni su cui noi ci vogliamo mettere in cammino allora siccome dicevamo che l'estetica il criterio estetico sta venendo un po' meno nella sua capacità di attrarre oggi quelli che dovevano essere i lettori ti chiedo che altro è uno spunto di riflessione se secondo te sia proprio questa nuova condizione del lettore che ho berato da segni e proprio questo surplus di informazioni che secondo te sta contribuendo al declino del fattore estetico qui nella scelta diciamo è un argomento che avvia una discussione no allora Simona sì ho capito quello che vuoi dire no prima di tutto anche voglio chiedere scusa per il mio italiano perché a volte quando mi accedero non va bene ma va bene va bene non preoccuparti no allora è quello che dice che ha detto Simona che diciamo utilizzando l'ultimo lettore di piglia di quello che legge tutto quello che va per strada e questa diciamo questa come dire come ha detto lei viviamo in un mondo di segni no un'invasione di segni continuo no che no che non si può diciamo distinguere bene quello che è buono quello che è cattivo quello che ha un valore quello che non ha un valore quello che diceva anche Rasti rispetto al mondo contemporaneo di quello che la spazzatura è accanto delle cose meravigliose mi ricordo anche un tango che dice così come diciamo come un mercato dove tutto è mescolato come il mercato dei pulci a Parigi tutto quello è buono anche quello che è una copia una parodia quello che è Kitsch no allora ma Cervantes è consapevole di questo il problema è che Cervantes già nel 1605 ha concepito il mondo moderno come in questa questa mancanza di hierarchia in questa mancanza di ordine in questa entropia dove non si può risolvere questa questa questione e inventa una forma che è quello il romanzo moderno diciamo in cui si può parlare di tutto si può parlare della cosa più più bassica più scatologica e anche della più alta della più spirituale e allora praticamente in certi momenti Don Quixote sembra un mistico perché ha qualche cosa anche di un cavaliere di valori onorebole di valori feudali anche parla lui anche come un uomo di un altro tempo è un razionario in quel senso ma anche capisce il mondo della vulgarità il mondo non soltanto vulgare anche del cattivo gusto della gente che trova nella sua strada e quella può darsi che sia quella cosa che Navokov non capisce può darsi che è là la cosa che Navokov non capisce che tutto è un gioco literario e che non c'è non è realista Don Quixote non è un pezzo anche lo dice Guetti Solo non è un pezzo di realtà non è un racconto di vita no? tranche de vie no? non è un tranche de vie è un gioco literario continuamente no? e allora c'è anche questo gioco no? un gioco che è assolutamente contemporaneo questo che Simona diceva che è come come gestire per non perdersi in un laberinto di segni no? e la unica forma per non perdersi è quello che Cervantes la lezione di Cervantes è la forma di questa prosa di questo romanzo che è complessa assolutamente non è non è è tutto il contrario di un libro semplice è complessa per esempio non so tutti sono tante le storie di Cervantes di Don Quixote possiamo parlare di Borges possiamo parlare di Thomas Mann Dostoyevsky anche che inventa anche di memoria inventa qualcosa che non c'è nel Quixote per parlare del Quixote anche possiamo parlare di Virginia Woolf che diceva che era un libro noioso no? Virginia Woolf era un libro noioso era una fatica per leggi dirlo no? e allora è questo che 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 trovano è quello che che posso ci sono altre domande intervenite pure sì io avevo una domanda prego prego volevo sapere se se secondo il professore Cervantes può aver proiettato qualche aspetto della figura dell'ebreo errante su Don Quixote perché oggi stavo ascoltando la questione della di una radice semitica probabilmente in Cervantes se volevo sapere perché io ho riscontrato questa adesso mi è venuto in mente così alcune somiglianze volevo sapere se questo può essere plausibile non so risponderti in una maniera filologica a questo non posso dirti se c'è una elaborazione dell'ebreo errante ma comunque c'è un'idea di un uomo che non si trova quello è Don Quixote è un uomo che non si trova è uno che non si trova nella realtà è uno quello che immagina è un altro quello che c'è nella realtà è uno che è inadattato quella idea dell'ebreo errante è uno che non trova il suo loco Don Quixote è uno che non trova il suo loco perché il suo loco non esiste perché è un loco che ha sparito e dopo c'è un'altra questione che a me sempre mi ha sembrato importantissima Cervantes è uno che ha avuto una vita sempre in movimento come un ebreo errante Cervantes è uno che andava a lottare contro il turco che dopo c'è stato nell'Algeria cinque anni in una gabbia che dopo ha viaggiato per Spagna come ricaudatore di soldi per il re che è stato in carcere che è cominciato in carcere il romanzo che aveva una famiglia assurda perché avevano le sue sorelle le sue nepoti anche la sua figlia avevano una malaffama di donne di la vita allora è tutto è stato un uomo che non ha trovato il suo posto neanche trovava il suo posto nella letteratura spagnola l'ha trovato a cinquenta qualche anni ha trovato questo questo posto nella pubblicazione della prima parte del Chichot ma aveva scritto tante poesie tante teatro e non trovava il suo posto in quel senso sì in quel senso chiaramente e dopo ti dico che per questa interpretazione di Cervantes come ebreo come morisco come uno che al di là dell'ortodossia è quella l'interpretazione di Goetisolo il mudejarismo della idea di Américo Castro della realtà istorica di Spagna la realtà istorica di Spagna come una mescolanza con una mistura del islam del cristianesimo del judaismo e del cristianesimo ma non possiamo dire per esempio un amuno o qualche altro commentatore sempre e anche il Navokov interpreta il Chichote come un libro cristiano ma non è soltanto un libro cristiano ci sono altri valori che hanno da avere con queste laverinto di segni di cui parlava anche Simona ma infatti l'osservazione dei segni è estremamente è un tratto estremamente ebraico cioè c'è il misticismo c'è è molto forte molto presente il testo come laverinto anche è quello che fa che fa Cervantes e tutta questa questione dell'autore dell'autore che non è preciso c'è un autore c'è un altro c'è un commentarista c'è un compilatore c'è la traduzione c'è una sacralità del testo che è completamente diversa cioè molto più profonda va bene non direi sacralità nel senso di Cervantes quello è il punto perché quello che fa Cervantes è desacralizzare tutto questo hai capito? c'è qualche altra domanda se no direi diciamo che se non ci sono altri interventi io chiuderei allora visto che siamo nei tempi siamo perfettamente nei tempi di solito il nostro incontro dura un'ora e un quarto un'ora e venti allora ringrazio molto no scusi vorrei fare una domanda in extreme allora intervieni intervieni scusate sì io nel corso del sentimento il professore ha evidenziato come la novellistica italiana sia anche una delle fonti diciamo in diretta del Don Quixote volevo chiedere secondo il professore perché visto che la novellistica italiana appunto è stata tradotta un po' in tutta Europa nel corso del Cinquecento ha avuto un successo internazionale secondo il professore perché proprio in Spagna invece si è evoluta diciamo in questa direzione verso il romanzo moderno e non in altre in altre nazioni europee va bene quello che ho detto anche che ho lasciato chiaro è che Cervantes è uno che si ha l'orgoglio di essere dei pochi chi scrive novelle all'estilo italiano ma originali non tradotte non riscritte con un argomento originale per lui è chiaro che la novella italiana è il suo da dove parte tutto il sviluppo di Don Quixote da lui parte tutto il sviluppo di Don Quixote diciamo che questo Boccaccio è un primo capitolo del romanzo moderno ma veramente il sviluppo del romanzo moderno non è la cornice di Boccaccio ma è questo sviluppo della prosa questa oratio soluta di Cervantes secondo il punto di vista che io mantengo in questo intervento e allora perché non c'è stato questo sviluppo in un altro paese europeo questo è una domanda fondamentale veramente fondamentale Simone allora perché perché la Spagna è una società veramente complessa in quel periodo là e c'è anche Simone pensa pensati che c'è la Spagna è un impero mondiale ma un imperio veramente mondiale perché c'è l'Asia c'è l'America c'è una attività economica che in quel momento là non c'è un altro un altro punto è vero che non c'è un commercio come potrebbe essere in Italia che anche questo commercio ad avere con Boccaccio ad avere con la Repubblica con la Città Repubblica ma la Spagna è questo mondo veramente non c'è come diciamo come posso dire Sevilla in quel momento là è una metropoli e Sevilla è il contesto o il paesaggio di molti dei novelli esemplari di Cervantes questo riferimento a queste città che sono veramente un caos di persone di persone di ricchi di poveri di persone che cercano la vita come Napoli per Boccaccio e anche Simone un'altra cosa importante è la picaresca che c'è stata in Spagna e allora questa mescolanza tra la picaresca o questa mistura tra la picaresca e la novella italiana è quello che da dove viene fuori Cervantes questo per me è importante e questo è in Spagna non c'è un altro la picaresca è un genere spagnolo non c'è dopo è vero che c'è stato in altre letterature ma come racconto di vita questo sì racconto finto di vita ma a volte racconto vero di vita perché sono novelle picare romanzi picare che sono finte ma altre sono autobiografiche veramente di soldati questo ti spiega un po' sì sì certo ho capito grazie le città della Spagna dell'epoca erano un po' come grandi città italiane del 2300 e poi è un po' sempre così per la prosa se ci pensate la stessa domanda che Simone ha posto a Miguel per il Cervantes potremmo al contrario porcela a noi come mai in Italia nel 6-700 non ci sono romanzi neanche nell'ottocento se vogliamo forse neanche nel novecento ma in ogni caso dobbiamo aspettare Manzoni sì va bene però io credo che la risposta è un po' simile cioè il fatto è che i centri i grandi centri favoriscono la prosa favoriscono l'allargarsi e lo svilupparsi del mondo della prosa questo è evidente non è un caso che se parliamo della tradizione spagnola dopo Cervantes anche la tradizione spagnola è risaputo a dei vuoti notevoli due secoli praticamente due secoli ma perché questo probabilmente c'è anche una radice storico sociale economica cioè non ci sono più i grandi centri infatti dimmi anche Franco Moretti in un capitolo dell'Atlante del romanzo europeo giustamente ricostruisce la storia del romanzo ottocentesco tramite Londra e Parigi sì perché si può fare una geografia del romanzo oltre che una storia questo è sicuro c'è un elemento importante no diciamo che dopo dopo Cervantes dobbiamo parlare di Stern di Tristanciandi praticamente ma in Spagna non c'è niente no perché la ricezione di Cervantes avviene fuori dalla Spagna Sì della terra della terra Francia inglese va bene allora ringrazio per l'ultima domanda se ce ne sono altre me lo dite se no io chiuderei qui il nostro intervento visto che scattano le 17.30 vedi altre altre domande Binghel dimmi no non c'è nessuno che chiede no non ho avuto bisogno di questo professionale di la domanda no di solito volevo chiudere con questa battuta che prima non sono riuscito a fare che io e Miguel ci siamo accorti che in molti consessi no il silenzio viene sempre interrotto da da qualcuno che non c'entra niente con con le persone di solito e di solito è un vecchio pazzo che non sa cosa fare durante gli incontri e pone la prima domanda e così rompe il ghiaccio e quella è la sua funzione però oggi non c'era ma ce l'abbiamo fatta lo stesso va bene grazie a Miguel Gregorocca grazie a tutti quelli che si sono collegati e l'appuntamento a questo punto per il prossimo seminario sarà dopo la Pasqua perché il prossimo appuntamento è l'8 aprile grazie Miguel e grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci ciao